Mego vale a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono TheConquer94 e oggi siamo qui su uno dei videogiochi che io ho più, che ho tanto, ma tanto atteso in tutto questo tempo Stiamo parlando di un gioco della WorldGaming.net Let's Battle! Siamo su World of Warships Signori, è dai tempi che ho giocato World of Tank Ho giocato World of Warplanes, ma World of Warships lo proveremo per la prima volta sul nostro canale Spero che adesso la fotocamera stia andando perché ho visto che ho anche poca batteria Speriamo che vada abbastanza bene, vado a loggarmi e iniziamo subito Eccoci qua che siamo tornati ancora su World of Warships Prima ho provato a fare la missione introduttiva che mi ha fatto vedere un po' come sono le... Come si dice, una piccola introduzione per farvi vedere un po' come funziona, come si combatte, eccetera eccetera Su questo tipo di World of Warships non c'è ancora gli scontri PvP rispetto agli altri Che c'è World of Tank e World of Warp, perché lo porterò anche sul mio canale World of Warp, non vi preoccupate Allora, visto che siamo qua, mi è arrivato anche un codice, penso settimana scorsa Che mi hanno dato 1000 monete d'oro più una nave di secondo di livello che è questa qua Che io me la vorrei tenere e andremo anche a provarla Non so che cosa c'è, Chrysler Quindi magari è una nave che è piccola, cioè guardate Allora io lo sto giocando a bassa risoluzione perché sto facendo questa cosa qua però Cioè guardate un po', vabbè lasciamo stare perché sono navi che hanno combattuto nella prima o seconda guerra mondiale Mamma mia, cioè quelli che lavorano a questi giochi qua devono essere veramente ma veramente forti Però visto che siamo di livello 2, però non lo so Magari lo proveremo la prossima volta, facciamo così, proviamo la Henry che è questa Mamma mia che bella che è questa, c'ho pochi cannoni eh rispetto a prima, vediamo se c'è cannoni dietro Ce li ha, ce li ha, ha anche l'antiaerea, c'ha anche, vabbè Facciamo subito una nostra cop, che è una divisione, quindi gioca con i tuoi amici, 15.000 che ci giocano Server, sì perché mi è andato 7 giorni premium, quindi, dai, entriamo Incontriamo la nostra, facciamo la nostra prima battaglia a co-op con i nostri amicetti Vediamo un po', ma ci sono due destroyer, ce ne servono 20? Com'è così tanti se è una co-op? Bello, bello, bello Distruggi i nemici Allora, se distruggo questo mi da più 45 Questo qua più 40, 35 e questo 30 Se perdi gli alleati invece fa, quindi tipo è un punteggio Combatti i nemici, le storie lacrosse, vediamo un po' contro chi siamo Sì, io c'ho sic-94 perché è quello che ho usato nel vecchio World of Tank Vecchio, a me piace tantissimo World of Tank, non mi frega niente Shikuma, Novi, Ermelin, tutti usano le Ermelin L'unico che usa l'americano, vabbè Vesco il cursore di un altro giocatore, shipper compare con la tua shipper Ah, questo qua è come su World of Warped Cioè io prendo questo E provo Magari se me lo metto insieme a questo qua No, ok, tra poco iniziamo, quindi Niente Questa sarà la mia seconda battaglia dopo il tutorial che io ho provato Sì, il Kikuma dovrebbe essere quello che io ho provato Ok, benissimo, siamo in battaglia Vediamo un po' i nostri alleati Mamma mia Cioè guardate Guardate che nave Questa è anche americana Questi già sparano a caso Ok Sparano già a caso? E allora sparo anch'io a caso Vediamo un po' Sono quelle lì? No, non sono quelle Sono già abbastanza cieco Sparano già lontano? Sparo anch'io, dai Spariamo anche noi Va a far vedere Allora, potrei ficcarmi lì dentro Però visto che siamo sulla parte destra Dovremmo andare di qua Giapponese Ah, la giapponese Oh, ferma, 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 ferma Mi stavo andando adosso Se almeno quelli lì riescono a penetrare dentro In quella linea lì Magari Eh, riusciamo a far qualcosa Vedi, già due Allora, anneggio Ne ho già trovata una qua Prepararsi Dietro, 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 dietro Dai che riusciamo a buttarlo giù Manco per idea Dietro, dietro Dietro, avanti piuttosto Allora, se non puoi avanti, vai Che non spara? Arma? Come arma? Ah, magari non era una buona, una giusta distanza Dai, dai, siamo tre contro uno L'ho mancato un pochettino, eh Non ne so sicuro Però andiamo a far fuori anche un po' questo Qua si sta scappando Si sta scappando dalla battaglia Ok Vediamo Stiamo perdendo il motore Ripari subito Non ripara Perché non ripara? Va, lo posso riparare solo una volta? Ma che? Ci siamo scontrati contro Dai che ormai quella è andata Questa è nostra Uuuuh E una l'abbiamo fatta fuori Bene Adesso tocca a te, bella Chissà quando si faranno i pvp Mamma mia Dai, 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 dai È bellissimo È bellissimo Porco cane Magari dovrei girare L'ho preso solo una volta Pensate Mamma mia Io, a me questo piace Potete dire tutto quello che volete Ma a me piace A me quei wargaming Mi piacciono tantissimo Quindi Uno dei nostri Ha anche perso Quindi io prima cercherò Di buttare giù questa Non dirmi che stiamo dando cura contro qualcosa No Ah ma mi piace tantissimo Mamma mia Poi stanno cercando di sparare da lontano È mia È mia la chi? Lasciatelo stare I cannoni sono andati E adesso che cosa facciamo? Sono andati i cannoni Non dirmi che ci siamo scontati ancora contro qua Porco cane che botta che mi ha dato Eh, te ne pentirai dalla tua cosa Allora vediamo Non deve scapparci Mamma mia Oh C'è dato di quelle botte Porco cane 35.000 monete 100 colpi Una distrutta Set of fire Ragazzi Vediamo qua Team score Ragazzi Se mi metto dietro con questo gioco Guarda Guardate Mi ricordo Mi ricordo quando giocavo a World of tank Guarda Vediamo un po' che cosa Per potenziarci un po' Eccolo qua Allora Moduli Della mia Un po' come World of Warplanes Ok Possiamo potenziarci Eh, potenziarci Ok Possiamo prendere la 152 mm Ragazzi Voi non sapete La 142 mm Da 20 a 36 Ci impiega un po' di più a ricaricare Però massimo Penetrazione di Massimo C'è da più 400 Più 800 Subito Tanto io Sono abbastanza Preciso di ricerca Sì perché voi Per potenziare Avete bisogno dell'esperienza Per farlo La mettiamo anche Certo Voglio vedere come sono questi cannoni Li voglio vedere Dovrebbero anche farli vedere poi i cannoni Eh Li ho messi Aspetta Voglio vedere Perché di solito Sì sì Bene Basta Via Togliti Ah ok Io posso mettere 127 Cioè C'è Fa tanta differenza Potrei prendermi già subito il Chester Con 350 Potrei già prendermi Magari lo proveremo Magari la compreremo la prossima volta Facciamo l'ultima partita Proviamo a fare La M-Dem Proprio 105 mm Questa è abbastanza piccola 105 mm Ah ma perché è veloce a sparare Potremmo essere O dei destroyer Però mi sembra strano No Delle battleship non credo Fammi vedere Voglio vedere cosa c'è scritto Ah no Siamo cruiser 17.000 Quanti cannoni c'ha Però È bella Allora Vediamo Ding ding Vediamo pilota Che bello Posso dire tipo Vai qua Che bello Può dire dove posso andare col mouse Ma Ma sta lanciando dei siluri Ho visto quelle robe lì Che sta lanciando giù A che film che fa Mamma mia Anche io eh Dove Dove avanti Lì Te lo trovo Faccio io un macello adesso Faccio io un macello adesso Allora vai piano Vai Vai ferma Fermo 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 Allora Io ho giocato Diciamo A Un po' di giochi di Navali E vi posso dire Che l'unico Quando ci siamo in questa circostanza È meglio girare Aia Aia Cosa mi ha colpito Faccio un macello Adesso Adesso Mi è sicuro Ribattata la nave Bene signori In questa battaglia È andata proprio malissimo Perché pensavo che magari fosse un pochino più resistente Ma mi sa che queste dovrò utilizzare un'altra tattica Come sto Come su World of Tank Ci vogliono altri tipi di tattiche da usare Quindi questa qua la utilizzerò in un altro modo Sì va bene ho capito Basta basta Ok Sì va bene ho capito Basta Ho capito Signori questo è World Poi Questo è World of Warships Porterò ancora questo sul mio canale Perché è un gioco che a me piace tantissimo Lo porterò ancora perché devo scoprire I segreti di questo magnifico video game Quindi se volete iscrivervi al mio canale Per essere aggiornati nei prossimi video Potete anche farlo Lasciate un mi piace E un commento qua sotto Così potremo anche commentare Potremo anche parlare di varie cose Eccetera eccetera Se volete lasciare anche una piccola donazione Potete anche farla così Potete anche supportare il nostro canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi